Dopo tanti annunci, rinvii e appuntamenti mancati, il centro diurno per soggetti affetto dallo spettro autismo in città sembrerebbe finalmente in dirittura d'arrivo. Questa mattina la consegna delle chiavi dello stabile di via Maurizio Ascoli nelle mani del direttore generale dell'ASPA Alessandro Caltagirone. Il comune ha finalmente messo a disposizione dell'azienda i locali sgomberati dopo un braccio di ferro durato anni con l'associazione Falchi d'Italia. Adesso toccherà all'ASPA avviare in tempi brevi il servizio reclamato dai familiari dei soggetti autistici che in questi mesi si erano fatti sentire anche con un sit-in di protesta organizzato davanti il centro di salute mentale di via Madonna del Rosario. Noi da domani entreremo per le fasi di progettazione e poi avvieremo una procedura per appaltare l'opera. Caltagirone che in mattinata ha visitato anche i locali di via Madonna del Rosario conferma che il servizio non perderà in continuità ed ha anche qualche buona notizia sul fronte Bresti Uniti. Noi intanto apriremo il centro di urno di via Madonna del Rosario che oggi vado anche a visitare perché la parte interna mancano soltanto le porte e quindi è quasi operativo. Contemporaneamente in parallelo partiranno le attività qua quindi dal punto di vista assistenziale assoluta continuità. Ci sarà poi un cambio di sede quando questa sede sarà completata. Buone notizie arrivano anche sul fronte Bresti Uniti. Sì, stiamo facendo anche lì dei passi in avanti, stiamo rinforzando la squadra sia dalla parte chirurgica che dalla parte della Bresti Uniti quindi a breve anche lì si completerà il procedimento. Soddisfatta l'assessore alla sanità Nadia Gnoffo che conferma l'impegno dell'amministrazione nel rilancio del settore sanitario del territorio in sinergia con l'azienda ospedaliera. Continueremo a collaborare in questi termini anche perché la politica ha il dovere di dare risposte e di garantire servizi, assistenza medica e sociale ai soggetti interessati, appunto ai soggetti autistici. Questo sicuramente rappresenta un intervento più importante per noi, anche per l'amministrazione perché comunque ci consentirà di ridurre la marginalità e soprattutto di consentire alle famiglie dei soggetti autistici di poter garantire cure efficace ai propri figli per lo sviluppo cognitivo motorio. A consegnare le chiavi a nome dell'amministrazione l'assessore al patrimonio, grazie a Robilatte. Noi abbiamo fatto la nostra parte che appunto la consegna di un immobile, poi l'Asp dovrà adeguarlo per ospitare questo centro, un fine assolutamente nobile che ha incontrato delle difficoltà burocratiche che per oggi ci vede soddisfatti perché la volontà politica insieme allo sforzo fatto dal settore patrimonio e quindi questa sinergia di lavoro ha permesso che ogni ostacolo fosse superato e siamo qui a consegnare queste chiavi.